E' stato il giorno dell'ultimo commosso saluto a Luca Moretti, il 26enne ritrovato cadavere in un campo di grano a Policiano lo scorso venerdì ad un mese di distanza dalla sua scomparsa. Oggi nella chiesa di Ricutino si sono svolti i funerali del giovane celebrati dal parroco Don Virgilio Annetti. L'intera comunità della frazione aretina si è così stretta attorno al dolore della famiglia e degli amici di Luca. Il nulla osta per i funerali era arrivato dopo l'autopsia svolta lo scorso lunedì all'ospedale San Donato di Arezzo dall'equip di medicina legale di Siena guidata dal dottor Marco Benvenuti. L'autopsia aveva escluso il delitto sul colpo del giovane, non erano stati infatti ritrovati segni di violenza, nessuna frattura riconducibile dunque ad un'aggressione. Resta adesso l'attesa per l'esito dell'esame utoptico e degli esami tossicologici che potranno stabilire con certezza la causa della morte. Le ipotesi al momento restano quelle di un malone per cause naturali oppure dovuto all'assunzione di sostanze. Le indagini intanto proseguono senza sosta. Luca era scomparso da Rigutino lo scorso 26 maggio quando di lui si erano perse completamente le tracce. Poi il drammatico ritrovamento a Policiano a pochi chilometri di distanza dalla sua abitazione. Resta adesso dunque da chiarire come si è arrivato in quel campo e soprattutto quale sia la causa del decesso. Pochi dubbi invece sulla data della morte che sarebbe avvenuta nella sera della scomparsa. Grazie. Grazie.